Ritorniamo su un argomento già trattato, siamo in via del Pizzone a Taranto nei pressi di Porta Levante dell'arsenale della Marina Militare e abbiamo sottolineato l'aspetto problematico rappresentato dalle siepi, dagli arbusti che si stagliano lungo la strada e di fatto impediscono la visibilità ai guidatori, ai veicoli. Già in passato ci sono state delle ulteriori segnalazioni? Sì, ci sono state delle segnalazioni e volevo dire che il nostro segretario attuale della Cisa Aziendale insieme ad altri colleghi e anche a qualcuno di noi abbiamo fatto a livello personale gli interventi per tagliare gli abusi con le proprie ore di permesso personale e non mi sembra una cosa fattibile. Questo è giusto per marcare che questa strada è molto importante. Come diceva il collega prima, qui ci entrano tante gente, a prescindere gli operai dipendenti, ma ci entrano anche le ditte e quindi è di una gravità abbastanza consistente. Quindi non penso che chi di dovere voglia che noi ancora ci mettiamo a disposizione anche perché è una cosa che la facciamo non con passione ma con spirito di sacrificio. Anche perché è a rischio la pubblica incolumità, non è un fatto personale, non è un interesse personale, è un interesse della collettiva perché poi dobbiamo piangere i morti, no? Sì, anche perché ti devi pensare che qui la mattina ci sono due o tre mila persone che comunque questa è una zona, è una porta dove non dico il buon 70% ma circa quasi entra di qua quindi è abbastanza pericoloso e sarebbe bene intervenire il più presto possibile. Tutti i mezzi pesanti pure, entrano, l'unica porta accessibile è questa, dalle altre porte non accedono quindi immaginiamo una strada piccola stretta con i camion che ci entrano e macchine che escono è di una gravità assoluta. Grazie a tutti.